Buongiorno, bentrovati. Martedì 2 gennaio 2018, buon anno dalla nostra redazione, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che come sempre si apre con le prime pagine dei giornali abruzzesi. Iniziamo con le quattro edizioni del centro, iniziamo e partiamo da Pescara dove si fa il resoconto, eccolo qui, con il titolo di apertura della due giorni di feste in piazza per l'arrivo del nuovo anno in 60.000 per i brindisi in piazza. Grande festa popolare con i concerti di Caposela e Dermal Meta e poi a centropagina, Capodanno 2018, due bimbi nati all'ospedale di Pescara. La cronaca, Montesilvano, tamponamento sull'autostrada grave, un 21enne, poi il bilancio della questura di Pescara, i reati nel 2017, rapine in calo, più persone agli arresti. Ancora Montesilvano, cresce la città perché i residenti sono arrivati a quota 54.000. Poi il nuovo anno c'è l'oroscopo, in questo caso degli sportivi, con Allegri, Oddo, Di Francesco e Verratti. Secondo gli astri sarà un bel 2018. Andiamo a vedere la prima pagina del centro edizione di L'Aquila-Vezzano-Sulmona, Santa Croce, otto anni senza lavori. L'Aquila, la burocrazia lenta, blocca il rientro a casa di 20 famiglie. Ed ecco Maura, prima nata in Abruzzo e seconda in Italia, nata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Sempre all'Aquila, bufera sull'ISA, Preier lascia la direzione. Ad Avezzano, stangata al CAM, bolletta Enel, da oltre 3 milioni. E poi a Sulmona, la vicenda della centrale SNAM, la regione lavora al ricorso. Andiamo a vedere anche qualche altro titolo di argomenti che ritroviamo all'interno del giornale. Nel discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato i morti di Rigopiano, tra l'altro 18 gennaio, dunque tra 16 giorni ci sarà il primo anniversario di questa tragedia. E poi la sentenza, ma a essere escluse giovedì, ci sarà il vertice al Miur. E poi D'Alfonso, ora la sfida dei depuratori. Ecco che cosa riserva il 2018 all'Abruzzo, secondo il Governatore della Regione. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro, edizione di Teramo. Ecco qui il titolo di apertura. Tirato fuori dall'auto in fiamme, Pineto, giovane, va fuori strada, gli salva la vita. Un vigile del fuoco, dunque brutta storia, fortunatamente a lieto fine. Poi il capodanno Teramano, tuffo per beneficenza nel mare di Giulianova. Martinsicuro, banda del buco, svaliggiata una gioielleria. E poi il calcio, campi di calcio, le società, ridateci i soldi. E poi provincia, sempre più imprese digitali, sono quasi 500 in provincia di Teramo. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Chieti, Lanciano e Vasto. Siamo in provincia di Chieti, trovato ustionato davanti al Camino Gissi, soccorso dal fratello e dal 118. E' grave, è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli, al centro grandi ustionati del nosocomio Campano. E poi vedete i tuffi il primo dell'anno, anche a Rocca San Giovanni Vasto, oltre che a Giulianova, come abbiamo visto. E poi Chieti di primio, il sindaco, opere al via nel 2018 per 40 milioni, Lanciano, auto lo investe. Voglio sapere chi è stato ad Ortona e spropri i risarcimento dopo 20 anni. Siamo alla prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero, anche in questo caso il titolo di apertura riguarda il saluto in musica al 2018, a Pescara in 30 mila nella notte di Vinicio Capostella, ieri il bis, con Ermal Meta, in migliaia all'Aquila, tra festa e voglia di normalità. E poi vedete anche, abbiamo letto qualche istante fa dal centro, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno, ha ricordato la strage di Rigopiano, i familiari, siamo grati al presidente per il pensiero durante il messaggio. E poi i primi nati all'Aquila, Maura, batte tutti ed è seconda in Italia, arrivata qualche secondo dopo la mezzanotte. E poi Vasto, autopiomba sulle macchine dei fedeli, mistero a Vasto. Andiamo a vedere anche in alto qualche altro richiamo a notizie e argomenti che ritroveremo all'interno del quotidiano in messaggero. Boom demografico, Montesilvano verso quota 55 mila, la fusione si allontana, dunque di fatto Montesilvano è a questo punto, ma lo era già prima, la seconda città per residenti, città della nostra regione, dopo Pescara. E poi l'Aquila, slot machine record di scommesse, il triste primato e poi motori, piloti super, Iannone annuncia, nel 2018 arriverò tra i primi tre. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano, la città, anche in questo caso il titolo di apertura riguarda la cronaca, salvato dalle fiamme del vigile eroe, pompiere fuori servizio, estrae dalla macchina incendiata un ragazzo con la gamba rotta. E poi in alto, la pittrice uccisa, pronti i primi risultati della scientifica. E poi Fiocco rossa all'ospedale Mazzini di Teramo e Gloria, la prima nata del 2018. E poi Giulianova, si ripete il tradizionale bagno di gruppo, il tuffo di Capodanno. Capodanno, in basso si parla di calcio e del Teramo, in questo caso parla il tecnico della Fondazione Bianco-Rossa Antonino Asta, che dice Teramo il primo obiettivo è trovare la serenità e poi la cronaca, Martinsicuro colpo grosso alla gioielleria. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, oggi ne dicono, andiamo a vedere come sempre le prime pagine dei giornali nazionali, tanti gli argomenti presi in esame. Iniziamo e apriamo con il Corriere della Sera. Vedete in alto, Mattarella spinge per programmi realistici, rottura fra Bonino ed il Partito Democratico. Corro da sola, dice l'esponente radicale, ovviamente a camere sciolte, si guarda alle elezioni del 4 marzo, è già in pieno fermento, possiamo dire, la campagna elettorale. Poi andiamo in Iran, assalto alle caserme, 13 vittime nelle strade, arrestata la ragazza simbolo dei manifestanti e poi i primi nati nel 2018, aspettativa di vita, le previsioni dell'Unicef. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, Iran dilaga la protesta, Trump sfida Rouhani, ha fallito e dunque il Presidente degli Stati Uniti attacca il governo iraniano. E poi firme Bonino rompe con il Partito Democratico, vedete il titolo, i radicali impossibile raccoglierle. Andiamo soli, Renziani, tattica per avere più collegi. La base del Movimento 5 Stelle contesta invece la rivoluzione del codice etico. Mattarella, appello ai ragazzi sul voto. Proseguiamo con la stampa. Allarme sul voto dei giovani, ritroviamo anche sulla stampa questa notizia. Il 70% il 4 marzo starà a casa e c'è stato proprio un appello nel discorso di fine anno del Presidente della Repubblica che ha invitato i neomaggiorenni che dunque avranno la possibilità per la prima volta di recarsi alle urne di andare a votare. Ma le previsioni parlano di una larga astensione in questo caso. Andiamo a vedere anche altri titoli. Banche contro Big Tech, sfida all'ultimo click. Alibaba, Facebook e Amazon guidano lo sbarco dei colossi. Internet nel credito e nei servizi. Il sole 24 ore, promesse elettorali a 130 miliardi. Appello di Mattarella ai partiti per proposte realistiche ma il costo dei programmi lievita continuamente. Lasciamo il quotidiano economico, siamo invece al fatto quotidiano. Il colle dai due mesi a Gentiloni, tutto azzerato a marzo. Il discorso, dice Mattarella, decidono gli elettori. E poi si parla anche di Rai. Rai, 2017, fuga dalla Rai. La prima serata perde 410 mila telespettatori. E poi anche sul fatto quotidiano ritroviamo il titolo che riguarda quello che sta accadendo in Iran. Dilaga la rivolta del velo, 12 morti e moderati in crisi. Iran tra i paesi più giovani come popolazione giovane del mondo e dunque giovani che contestano il governo conservatore. Siamo al manifesto, l'esperimento neototalitario. Un anno di Trump alla Casa Bianca. Questo è il titolo in alto, nella parte alta del manifesto. E poi a centropagine, invece, strade di Persia. Siamo anche in questo caso in Iran. Almeno 12 morti durante le proteste di piazza più vaste dal 2009. Rohani promette ascolto. Ma tra crisi economica e scontri di potere trema la Repubblica degli Ayatollah. E Trump vuole il cambio di regime. Siamo alla prima pagina nazionale del messaggero. Fisco e pensioni 2018. Ecco cosa cambia. Rimborsi più veloci. Rivoluzione nel linguaggio delle cartelle. Via da subito il burocratese. Da domani i mini aumenti degli assegni mensili. L'ape sociale adesso favorisce le mamme. Andiamo a vedere. A centropagina la protesta in fiamma all'Iran. 12 morti. Rischio sanzioni per le ditte italiane. Poi il Colle scuote i partiti. Proposte realistiche. Bonino rompe con il PD. Torniamo a parlare di politica. Con il discorso del Presidente della Repubblica. Che spinge al voto i neomaggiorenni. Intanto fa discutere la scelta della leader radicale Emma Bonino. Di rompere con il PD. Costretti, ha detto la Bonino, ad andare da soli. Andiamo a vedere in alto qualche altro richiamo. Sulla prima pagina nazionale del messaggero. Scenari fake news. Eter settasse il 2018 difficile di Facebook. E poi il concerto di Capodanno. Che si è tenuto il primo dell'anno. Ha incoronato Riccardo Muti. Re del Walzer. Perché il tradizionale concerto di Capodanno di Vienna. È stato diretto dal maestro italiano. Ed è stato davvero un grande successo. E poi dobbiamo recuperare un attimo la pagina qui dal nostro computer. Vediamo di recuperare velocemente la pagina che stavamo leggendo. Vi chiedo un attimo ovviamente di attesa per riuscire a recuperare la nostra prima pagina del messaggero. Il caso in un video siamo al messaggero alla Roma. In questo caso Roma in Angolan. Fine anno esagerato. Volgarità, fumo e tanto alcol. Un titolo tra cronaca e non solo. Si parla di questo video. Ne parla in questo caso il messaggero. Andiamo a vedere anche la prima pagina di un altro quotidiano romano. Il tempo, donazioni flop, soldi buttati, emergenza sangue a Roma. Le inchieste del tempo, situazione critica in città e nel Lazio. Carenze di sette gruppi su otto. In caso di calamità, trasfusioni a rischio. Proseguiamo con la lettura delle prime pagine dei giornali nazionali. Siamo al quotidiano libero. Capodanno tra senza tetto italiani. La cronista di Libero, in questo caso, racconta la mara festa di chi campa in strada. E poi il ritratto di Cursi, il più giovane premier europeo. Il primo ministro austriaco, meno tasse, no clandestini e fumo libero. Viva l'Austria. Questo è il titolo del quotidiano libero. E poi siamo al quotidiano La Verità, diretto da Maurizio Belpietro. Viaggio ad Arezzo. Tutti i segreti del Tribunale dei Boschi, che trattò bene Licio Gelli, persino da morto. Questo è il titolo principale del quotidiano La Verità. E poi a centropagina, vedete, rivolta in Iran, già 12 vittime. Ruani sospetta che centrino gli Stati Uniti. Rapporti che tornano ad essere molto tesi tra Iran e Stati Uniti. E poi il governo vuole blindare anche la cassa depositi e prestiti. Vedete, questo è il titolo di centropagina. Dopo le ferrovie dello Stato, Gentiloni e Renzi pronti a rinnovare in anticipo pure i vertici della cassa depositi. Abbiamo visto il titolo del quotidiano La Verità. Alcuni titoli di prima pagina. Andiamo a vedere invece i titoli del quotidiano della conferenza episcopale italiana a venire. Ripartiamo dalla pace, Francesco, il Papa, Papa Francesco, dice Qualunque vita va amata sempre, non spegniamo la speranza di chi emigra. Vedete questa foto, il salvataggio di Capodanno. 300 migranti raccolti in mare, reportage dalla nave Aquarius. Non si fermano le partenze. E poi il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lavoro e concretezza, priorità per le elezioni. Andiamo a vedere anche il quotidiano di Genova, il secolo XIX, che apre con questa foto, fotosimbolo di questa ragazza, leader dei giovani che protestano in Iran, la rivolta del velo. E poi anoressia, illiguria all'età scende, disturbi alimentari. In Italia 3 milioni di casi, allarme per blog nascosti sui social, tra adolescenti diventa una moda. E poi l'arcivescovo di Genova, al Tedeum, il Cardinal Bagnasco, criminale far morire le botteghe affitti troppo cari, serrande abbassate in centro. Questo è un titolo di, ovviamente, respiro regionale. Si parla delle botteghe, in questo caso Liguri. Siamo al quotidiano di Napoli, il mattino, Napoli il capodanno delle stese, spari da due scooter in corsa a San Giovanni a Teduccio, ferito un dodicenne sul balcone, ma fortunatamente è in calo il numero dei feriti di capodanno. E poi Trump avvisa Ruani, ora di cambiare, si parla di quello che sta accadendo in Iran. E poi, vedete il titolo a corredo della foto, dilaga la rivolta, 13 morti, arrestata la ragazza senza il velo. Il mattino era l'ultimo giornale dell'edicola nazionale che abbiamo preso in esame. Dunque, dopo aver visto i titoli di politica di cronaca nazionale ed internazionale, possiamo tornare alle vicende di casa nostra, alle cronache dalla nostra regione, dalle nostre province, ripartiamo dal centro, pagina 2, elementari asili, la decisione più attesa perché riguarda anche la nostra regione, maestre precarie, giovedì cambia tutto, incontro al MIUR per chiarire l'effetto della sentenza che retrocede 50.000 docenti, chi ha vinto il ricorso ora esulta. E poi, anche sul centro, troviamo ovviamente il richiamo al discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricordato proprio il 31 a sera la tragedia di Rigopiano, proprio nel discorso di fine anno. C'è stato il ringraziamento dei parenti delle vittime proprio al discorso del Capo dello Stato. Capodanno, gli eventi della nostra regione sono stati davvero tanti. Intanto fa festa Maura, la prima nata in Abruzzo, seconda in Italia, e Aquilana, la bimba dei record, nata un attimo dopo la mezzanotte, per la felicità di mamma Cristina e di papà Cristian. Vedete alcune delle mamme con i nuovi arrivati nel primo giorno dell'anno. Di fianco, invece, le foto dei primi bagni dell'anno, nonostante le temperature sicuramente fredde, in diverse zone della nostra regione, da Giulianova a Rocca San Giovanni a Vasto. E poi vedete i 30.000 in piazza a Pescara, per salutare l'arrivo del 2018, del nuovo anno, con Vinicio Caposela. E domani parte la ciaspolata di Campotosto, sulle racchette da neve, per un viaggio anche notturno, costeggiando Riofucino e salendo a Valloni. E poi ritroviamo anche sul centro la pagina dedicata al discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Pensate al futuro, corre più realismo, detto Mattarella, discorso secco del Presidente della Repubblica. L'emergenza resta il lavoro, poi a centro pagina il blog di Grillo si defila via le parlamentari e in basso il PD rincorre e corteggia più Europa. Siamo alla pagina della cronaca regionale del quotidiano in sé del centro. Nel 2018, chiusa la partita depurazione, D'Alfonso, il Presidente della Regione, dice vanno cantierati e portati a termine l'80% dei lavori. Io candidato solo se sarà necessario, ha detto il Governatore della Regione. Poi una notizia non bella per tanti abruzzesi, perché c'è stato scattato proprio alla mezzanotte del primo gennaio un aumento sulle autostrade anche nelle tratte della nostra Regione a 24 e a 25 più care in campo l'unione dei consumatori. E poi in basso, WWF Ambiente, spingere sulla prevenzione e bilancio dell'anno trascorso da parte del Vice Presidente nazionale del WWF Dante Caserta e del Presidente regionale Luciano Di Tizio, che vediamo inquadrato nella foto. E poi l'Orso dell'Appennino, il mammifero più a rischio, ne parla un articolo della rivista Natura e Montagna. Andiamo avanti, siamo alle pagine dalle nostre province. Partiamo da Pescara, la Cicogna in ospedale, con il 2018 è arrivata a Patrizia e la prima nata a Pescara. Ecco il titolo, la bimba è la secondogenita di una coppia di guardia grele, il papà ha tagliato il cordone umbilicale, la sera del 31 dicembre è venuto alla luce prima di mezzanotte il piccolo Jacopo Bucciarelli. Dunque auguri a queste due famiglie per la nascita dei loro figli. La città torna a crescere con gli immigrati, è stato registrato un calo demografico fino al 2003, poi una lieve ripresa. Oggi Pescara conta 121 mila abitanti. Gli eventi per il nuovo anno, Brindisi in Piazza Salotto con il ritmo di Vinicio Capossela, oltre 20 mila persone hanno assistito al concerto della notte di San Silvestro. L'artista Irpino ha ringraziato, conosco l'Abruzzo e ci torno sempre. Volentieri tanti hanno sfidato il freddo del 31 a notte per seguire il concerto. Ieri in migliaia anche per Ermal Meta in piazza con il cantautore, parla l'assessore Giacomo Cuzzi che dice è stato un doppio successo. Il bilancio della questura sui reati commessi in provincia di Pescara nell'anno 2017, sempre meno furti e rapine, ma aumentano gli arresti, in caro il numero complessivo dei reati in città e provincia, non quello delle persone denunciate o sottoposte a controlli e misure cautelari. Rafforzata la sicurezza, vedete in alto questo grafico che condensa tutto quello che è accaduto in tema di reati nella nostra provincia, nella provincia di Pescara. Restiamo alla cronaca, due colpi in farmacia preso un 62enne di Loreto Aprutino, questo è l'articolo di spalla, e poi in basso schianto vicino al tribunale grave, quarantenne rimasto ferito, era in una Fiat 500 condotta dal nipote che guarirà in pochi giorni. E c'è mistero per un giovane aggredito, trovato in strada rantolante in via Cecco Angiolieri a Pescara, all'alba di ieri, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara. Ci sono le indagini in corso per questo giovane che potrebbe essere stato aggredito. L'altro volto della festa, la città inizia l'anno tra cumuli di rifiuti e cassonetti stracolmi. Vedete qualche immagine, immagine eloquente, grossi disagi per la sospensione della raccolta a capodanno, parla il coordinatore provinciale di Forza Italia, Cerolini che dice Pescara è nel degrado, che vergogna. Vedete le foto? E poi in basso si parla di Tari, che costerà 10 euro in più a famiglia. Ecco gli effetti degli aumenti della tassa su rifiuti per il 2018, stabiliti giorni fa dal Consiglio Comunale di Pescara. Sanità, si parla di sanità, pagina 18, il primario d'Incecco, sala parto da accorpare alla neonatologia. Il dirigente medico propone l'unificazione dei due comparti, che ora sono dislocati su livelli diversi, dell'ospedale Spirito Santo di Pescara. Così, dice il primario, potremo evitare tanti disagi alle mamme e al personale sanitario. E poi una lampada che individua le malattie dei neonati, questo nuovo ritrovato della tecnologia medica, di cui si parla nell'articolo di Spalla. E poi l'associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, celebra il centenario a Pescara. Progetto per gli studenti adottati, iniziativa dell'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, per la formazione di docenti specializzati. Siamo alla pagina di Montesilvano, abbiamo visto proprio nella prima pagina del centro, edizione di Pescara, questa notizia che riguarda la crescita di Montesilvano, che è arrivata a quota 54.202 residenti, numeri considerevoli per quella che di fatto è la seconda città per numero di residenti della nostra regione. E poi urbanistica, Palazzi Vistamare, SOS dei comitati di quartiere al sindaco. Da Montesilvano a Spoltore, più investimenti nella videosorveglianza, stanziati a Spoltore, 20.000 euro per potenziare la dotazione di telecamere da 5 a 30. E siamo ancora nell'area metropolitana di Pescara, in questo caso ancora a Montesilvano, con la cronaca tamponamento in A14, grave 1,21enne, il giovane stava riposando sul sedile posteriore di un'auto che si è fermata all'improvviso sulla carreggiata. E poi Spoltore, caso di Gregorio, in commissione. Proseguiamo, siamo alla pagina di San Giovanni Teatino e di Francavilla. Partiamo da San Giovanni Teatino, debiti della SGT Multiservizi, stanziati 300.000 euro. Questo è il titolo di apertura di pagina 21. San Giovanni Teatino, dopo l'agonia della precedente municipalizzata, è stata necessaria una nuova copertura finanziaria. Minoranza all'attacco. E poi, scontri a Valle Anzuca, di qualche tempo fa, in questo caso si parla di calcio, prima della partita tra Francavilla e l'Aquila, il giudice ha assolto due tifosi. Restiamo a Francavilla, dove i ballinatori alzano trincee di massi per difendersi dagli effetti devastanti dell'erosione. E poi in basso, riapre la strada 44 ai ciclisti. Siamo a Cepagatti, ultimati i lavori d'asfalto. L'assessore Sborgia scrive al presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ortopedia, sospesi tutti i ricoveri nel reparto Vestino. Siamo a Penne, si aggrava la crisi del San Massimo con il pensionamento di un medico. Appello all'AS del direttore sanitario di Luzio, vi avevamo proposto un servizio nel Tg6 della settimana scorsa, proprio su questa vicenda. E poi Sante Ofemmia Maiella, il sindaco Crivelli, Maiella madre, distretto turistico, dice il primo cittadino. Cappelle sul tavo, pronti fondi regionali per riqualificare la scuola. In basso siamo ancora in provincia di Pescara, Rosciano, in arrivo 2 milioni di euro per il castello del piccolo centro del Pescarese. Andiamo ancora avanti, siamo alla pagina di Chieti del centro, parla il primo cittadino Umberto Di Primio, al via le opere per 40 milioni, orgoglioso di essere il primo cittadino che ha portato più soldi in assoluto a Chieti negli ultimi 60 anni, ha detto Di Primio. E poi Maielletta in sei, bloccati dalla neve nella zona di Rapino. e poi Ripatiatina, ruba spesa del Cenone, la scambia con Eroina, 37enne fugge su un'auto con dentro i cibi di San Silvestro da rivendere per la droga. Dramma a Gissi, trovato ustionato davanti al Camino, 61enne a soccorso dal 118, trasportato prima all'ospedale San Pio di Vasto e poi trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli e in gravi condizioni. E poi Vasto si schianta contro 4 auto e fugge, momenti di paura davanti alla chiesa di San Giovanni Bosco. E poi Ortona, terra espropriata in zona Pep, il comune paga dopo 20 anni. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Avezzano, del quotidiano Il Centro, Salasso sul Cam, bolletta da 3 milioni, questo è il titolo di apertura, e quanto il consorzio marsicano dell'acqua deve ad Enel, pesa il costo della gestione degli impianti di sollevamento. E poi Verrecchia in Parlamento per soli 6 giorni, Avezzano parla il politico nel ciclone per i 10 mila euro mensili, non è un favore di piccone. E poi, morto a 92 anni l'ultimo principe del Fucino, Don Alessandro Torlonia, presidente della storica banca, era pronipote dell'uomo che prosciugò il lago. Siamo invece in questo caso alla pagina di Teramo, e di Teramo provincia del quotidiano Il Centro, tragedia sfiorata a Pineto, salvato nel rogo da un vigile del fuoco, giovane ferito non riesce ad uscire dalla vettura in fiamme, pompiere che passa per caso, rompe il lunotto e lo trascina fuori. E poi due cani appena abbandonati, recuperati sulla Teramo Mare, nella notte di San Silvestro, sempre dai vigili del fuoco, e poi Giulianova, Palacastrum, Vandali all'attacco, il terreno della tensostruttura, riempito di schiuma antiacido. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine dell'inserto Abruzzo del Messaggero, lo faremo tra qualche attimo, dopo questa breve pausa. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6, siamo alle pagine del Messaggero, inserto Abruzzo del quotidiano romano, l'anno che verrà, si parla di lavoro, la ripresina, non crea occupazione stabile, precariato, Onuel, e 109 crisi aperte, i sindacati non brindano, la Regione dicono, deve cambiare passo, in arrivo una mobilitazione unitaria. E poi, secondo e terzo trimestre da record, nei prossimi mesi, ci sarà la verifica decisiva, Pescara, Capossela, fa brindare il commercio, in 30.000, al concerto di Capodanno, a Piazza Salotto, musica, folla e divertimento, anche ieri con Ermalmeta, questo il titolo di apertura, e poi Jacopo, l'ultimo nato, Patrizia, la prima all'ospedale di Pescara, per quanto riguarda le nascite, e poi doppia rapina in farmacia, arrestato, siamo alla cronaca, un loretese di 62 anni, è finito in manette per due colpi, e poi schianto nella notte del 31, grave, un uomo, e poi più violenza sulle donne, si parla del resoconto, della questura di Pescara, per quanto riguarda, ecco qui il titolo, il resoconto del 2017, dei reati commessi a Pescara e provincia, più violenze sulle donne, posta e banche, sotto tiro, sono aumentate le rapine, sia nelle banche, che negli uffici postali, e poi in basso, ancora cronaca, siamo sempre a Pescara, questo titolo, che riguarda, questa vicenda, abbiamo visto anche dal centro prima, pestato in strada, della notte di Capodanno, i carabinieri indagano, sul caso di un tunisino, massacrato di botte, lasciato in via Cecco Angiolieri, siamo all'area metropolitana di Pescara, più donne anziani, Montesilvano cresce, non cerca fusioni, i residenti superano, quota 54.200, secondo gli ultimi dati, ma aumenta anche la fascia, che va da 41 a 65 anni, il piano, del primo cittadino, di Montesilvano, Francesco Maragno, questo è il titolo, che riguarda, la città, cittadina adriatica, che come dicevamo, per numero di residenti, ormai, è la seconda, della nostra regione, poi provincia, la maggioranza PD, si sfila, l'opposizione salva, di Marco, sui conti, fazioni contro, e poi guida spericolata, multe raddoppiate in un anno, a Montesilvano, a spoltore una commissione, farà luce sul caso di Gregorio, e poi, Lime Energy di Vicenza, siamo a Penne, vuole rilevare, vestina, gas, siamo alla pagina dell'Aquila, del messaggero, capodanno, migliaia in centro, tra festa, e voglia, di normalità, buon successo, per il concerto dei Regina, e per le altre iniziative, del cartellone aquilano, tanti turisti a passeggio, alla scoperta, della grande bellezza, da recuperare, e poi, comune, riorganizzazione, per ridurre la tassazione, poi Fiocco Rosa, a capodanno, Mauro, Mauro, scusate, l'acronista, è la prima nata dell'anno, è arrivata un paio di secondi, dopo la mezzanotte, e poi Auditorium, scelto come copertina, dei capolavori, del noto architetto, Renzo Piano, e poi donazione del sangue, e critiche al buono omaggio, siamo alla pagina, seconda pagina dell'Aquila, che si apre con questo studio, con l'allarme, l'udopatia in città più slot, e il record di giocate, il capoluogo conquista, il triste primato, nel territorio regionale, parla un esperto, il dottor Casacchia, che dice il rapporto con il sisma, è ancora tutto, da indagare, e poi andiamo a vedere altri titoli, grazie ad una donazione, ecco, defibrillatore e stufa, accesa a prova, e poi ciaspole e folclore, si parte domani, da Campo Tosto, e poi, il vescovo dell'Aquila Petrocchia, la festa di San Basilio, celebrerà le 17, la ricorrenza nel monastero, dove è arrivata la statua, della Madonna di Fatima, da ieri, e poi, San Pietro della Ienca, niente più cartelli stradali, lungo l'autostrada, San Pietro della Ienca, il santuario, caro a Giovanni Paolo II, andiamo avanti, pagina di Avezzano sul Mona, sempre dal messaggero, Marsica, boom di aumenti, nel 2018, trasporti, elettricità e metano, le sorprese a mare, per i marsicani, penalizzati, anche dai troppi disservizi, il salasso per il pedaggio dell'autostrada, è praticamente doppio, perché esteso sia al tratto dell'A24 che dell'A25, e dunque abbiamo visto anche che le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra, e poi l'evento a Tagliacozzo, Giobe Covatta riscrive Dante Alighieri, in basso sul Mona, Scuola Media Serafini, il cantiere può ripartire, e poi Roccaraso, nei guai per la tassa di soggiorno mai versata, Prato La Peligna, il distretto sanitario chiude, anzi no, il manager dell'As dell'Aquila Tordera smentisce il primo cittadino di Nino, pagina di Chieti del messaggero, ruba la spesa di Capodanno e la baratta per avere eroina, accaduto nel capoluogo teatino, e poi bloccati nella bufera di neve, li salvano i vigili del fuoco, paura in montagna, e poi il primo vagito dell'anno arriva alle 3.54, è nata Luca Paciocco, in basso ladri di figurine, spariti album dei calciatori, per 20.000 euro, nel mirino un dentista di Villamagna, i pezzi più preziosi risalgono agli anni 60, dunque ladri appassionati di calcio, siamo a vasto, piomba sulle auto, tragedia sfiorata, mistero sullo strano episodio del tardo pomeriggio dell'ultimo dell'anno in Piazza della Repubblica, una Renault si è schiantata contro le macchine in sosta, per lo più di fedeli che stavano uscendo dalla chiesa vicina, e poi Lanciano, stile ottocentesco nel calendario di Mingofante, il gigante buono, Eva, la prima nata al San Pio di Pietrelcina di Avezzano, a Lanciano, Virginia, anticipa, e poi Gissi, cade nel camino grave sessantenne, come abbiamo visto, ricoverato all'ospedale Centro Grandi, ustionati del Cardarelli di Napoli, e poi in basso Lanciano, Asle, dieci veterinari fuori, decide il Tar, Ortona, Di Nardo, vietare il transito delle pecore, lo chiede il capogruppo, consigliare di minoranza per le liste Fratelli d'Italia, noi con Salvini, ad Ortona. Siamo alla pagina di Teramo, del messaggero, piazze presidiate senza eventi, centro storico spento e desolato, per la prima volta sarà il sindaco di Basciano a dare il benvenuto, e non quello di Teramo, Gloria Di Donato, è la prima nata al Mazzini, si spera che il suo nome porti fortuna alla città, e poi furbetto delle pere locoste, nei guai autotrasportatore, e poi soccorsi due cani abbandonati dai vigili del fuoco sulla Teramo Mare, e poi in segue le tre donne che stavano entrando in casa, è accaduto a Teramo, in basso Danilo, l'impiegato comunale che si tuffa anche con il gelo, questa è la storia di questo giovane che ha sfidato le temperature fredde di questi giorni, per il bagno in mare, siamo a Giulianova, pochi gli alberghi aperti, ma tutti pieni, la città riscopre il turismo invernale, legato anche agli eventi, c'è chi chiede di spostare, obbissare a Capodanno, il presepe vivente, e poi concerto, l'inno di Mameli, batte la marcia di Radeschi, e poi a Giulianova per medicina un intero piano ad est, ortopedia si affianca, a chirurgia, ospedale di Giulianova, arriva la lungodegenza con un suo primario, e sono due, siamo in Val Vibrata, Martinsicuro, svaliggiata la gioielleria vallese, l'adlinazione della notte di San Silvestro, e poi sempre a Martinsicuro, carta elettronica di identità, da domani, siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme, le pagine interne del quotidiano La Città, partiamo da Pescara, dagli eventi di Capodanno, in 30.000 per Vinicio Capossela, pienone nella città adriatica, per il concerto di fine anno, del cantautore Irpino, in Piazza della Rinascita, e poi Pescara, ancora ragazzo trovato ferito in strada, la mattina di Capodanno, sono in corso le indagini, e poi invece, cambiando decisamente argomento, in basso, si parla di ciaspole e folklore, l'evento che si terrà attorno al lago di Campotosto, l'eroe di Capodanno, il vigile del fuoco, che ha salvato la vita di un ragazzo, pompiere pinetese fuori servizio, estrae dalla macchina in fiamme, un 21enne bloccato, con la gamba rotta, Silvia Colledara, in fiamme ai tendoni di un negozio, e la parete esterna di una baita, e poi in basso, lasciati in superstrada la sera di San Silvestro, due cani salvati e portati al sicuro, dai vigili del fuoco di Teramo. Teramani spaisati, senza la festa in piazza, lo abbiamo visto anche dagli altri giornali presi in esame, non regge la scusa degli ex amministratori, il Capodanno poteva e doveva essere organizzato, prima della caduta della giunta. Brucchi, il Gran Sasso chiede ai clienti come rinnovarsi, il centro commerciale di Piano Daccio lancia un sondaggio sui social, in occasione del decimo anniversario. Gloria è la prima nata del nuovo anno, siamo all'ospedale Mazzini di Teramo, la piccola figlia di una coppia di Basciano, è venuta al mondo, alle 2.30 del 1 gennaio, Sanità, l'Ipasvi torna a chiedere l'ordine professionale per gli infermieri, il presidente Cristian Pediconi ha fatto il bilancio di fine anno, in occasione della tradizionale cena natalizia. Andiamo ancora avanti per vedere un'altra pagina cronaca, in questo caso siamo in Val Vibrata, a Martinsicuro per l'esattezza, colpo grosso di Capodanno in gioielleria, banda di ladri ha svaliggiato l'orafo vallese di Martinsicuro, vedete nella foto, passando dalla confinante agenzia immobiliare, frutta sostratta alla cooperativa rivenduta in un negozio tortoretano, in due, nei guai, proprio a Tortoreto, e poi cibo sospetto, chiuso un ristorante della Val Vibrata dopo un blitz dei Nassi, ancora Martinsicuro, tornei di calcio a 5 in ricordo di Esther Pasqualoni, la dottoressa uccisa l'estate scorsa nel piazzale esterno dell'ospedale di Sant'Omero. Siamo alla pagina di Giulianova, in arrivo i primi risultati della scientifica, si parla del giallo della pittrice Renata Rapposelli, le risposte attese a giorni potrebbero dare una svolta decisiva alle indagini. Giulianova, si ripete la tradizione del bagno di Capodanno, vedete la foto nell'articolo di Spal, in basso siamo a Mociano Sant'Angelo, nuove polemiche sull'impianto di biodigestione, Maria Cristina Cianella, contraria alla realizzazione anche nel polo del CIRSU. E siamo a Roseto degli Abruzzi, con il nuovo anno che porta la riduzione sull'Atari, come annunciato dal sindaco di Girolamo, gli aumenti sull'imposta dei rifiuti verranno ridotti dal 20 al 25%. Atri, questa sera il grande concerto di Capodanno al Teatro Comunale. Ancora Roseto, ancora, pardon, siamo a Pineto, tanti investimenti grazie al contenzioso Eni, l'amministrazione comunale pinetese fa il resoconto di quanto fatto e traccia la strada dei prossimi interventi. Siamo ad Atri, Atri al voto, perché si voterà nella cittadina Ducale, il presidente ACI parla da candidato sindaco, ma precisa, sono solo un cittadino che tiene alla sua città, in questo caso è a parlare Carmine Cellinese, che vedete anche nella foto. Siamo alla pagina della cultura, il famoso violinista Uto Ugi apre l'annata musicale abruzzese, il violinista sarà in concerto l'11 gennaio al Marucino di Chieti per il bicentenario proprio del Teatro Teatino, con lui i filarmonici di Roma. Siamo allo sport, in questo caso si parla come sempre sul quotidiano La Città di Teramo, con l'intervista di inizio anno realizzata dal quotidiano La Città, dal nostro Jacopo Forcella, al tecnico della formazione bianco-rossa Antonino Asta, che oggi torna al lavoro con la squadra. Sto pensando, ha detto Asta nell'intervista, di rispolverare il 4-3-2-1. Queste sono le dichiarazioni più significative del tecnico della formazione bianco-rossa. Noi arriviamo a parlare di sport dalle pagine del centro e poi del messaggero. Partiamo dal centro perché oggi si apre ufficialmente il calcio-mercato con il Pescara che sarà inevitabilmente protagonista della finestra invernale delle trattative. Gans sarà uno dei primi a partire, l'ora dei saluti. L'Ascoli è un passo, l'attaccante del Pescara parla ormai quasi da ex e dice qui ho avuto poche occasioni, appena 83 minuti giocati con il Delfino, ora può finire nella squadra di Cosmi. Vedremo, so che c'è qualcosa, ovviamente non si sbilancia il giocatore bianco-azzurro ad un passo, come detto, dall'approdo alla vicina Ascoli Piceno. Intanto Zeman spera nell'arrivo dell'attaccante Vido, che era stato inseguito vanamente in estate dalla formazione della società bianca-azzurra. Intanto vertice in società all'orizzonte, ecco le richieste del Boemo, Pescara che ovviamente dovrà sfoltire l'organico, ma anche ovviamente puntare a qualche arrivo. Sorrentino Teramo, la Samba non apre alla cessione, l'attaccante individuato dai biancorossi è difficile da trattare. Si pensa al rinnovo di Sales. Andiamo avanti, si parla di volley. In questa pagina dedicata interamente alla palla a volo, l'intervista al presidente del comitato regionale della FIPAV, Fabio Di Camillo, trofeo delle regioni, occasione per l'Abruzzo, dice Di Camillo, a fine giugno, grande sforzo organizzativo. Vedete questa pagina quasi intera dedicata al volley. In basso si parla invece di palla a nuoto, perché il pallanotista pescarese Francesco Di Fulvio è il re della palla a nuoto, il miglior marcatore dell'anno con la nazionale Pescara che si conferma fucina di grandi campioni della palla a nuoto. Vediamo un attimo qualche numero di Francesco Di Fulvio. Sono 42 le reti realizzate con la calottina del 7. E' bello nel 2018 il figlio d'arte punta agli europei di Barcellona. Siamo alla pagina del basket con le dichiarazioni, l'intervista realizzata al tecnico ex amatori pescare e anche Chieti Salvemini che dice in Abruzzo allenatori tecnici valore aggiunto il coach Teatino del Sansevero capolista imbattuta del campionato di Serie B ha poi aggiunto il livello molto qualificato degli allenatori aiuta a formare nuovi atleti a rispettare gli obiettivi dei club e ancora il basket in Serie B gli abruzzesi sono in linea con gli obiettivi Campi, Amatori e Teramo hanno un ottimo roster e le ultime due sono quelle che più ci hanno messo in difficoltà ovvero Amatori e Teramo Salvemini protagonista di una stagione incredibile con la formazione pugliese del Sansevero sempre vittoriosa in campionato e dunque destinata ad un'ormai sicura promozione nella categoria superiore in basso si parla di tiro a volo dieta, musica e regali ecco il mondo della campionessa di tiro a volo Alessia Jezzi classe 96 campionessa teatina e la sportiva del 2017 del centro l'obiettivo dice la Jezzi è andare alle Olimpiadi noi auguriamo all'atleta teatina di centrare questo prestigioso traguardo andiamo a vedere anche le pagine dello sport del messaggero si riparte dal Pescara Pescara dare fiducia a Zeman lo dice Giacomo Modica appena passato sulla panchina del Messina Modica non ha dubbi se prendi un maestro come lui alla fine bisogna rispettare quello che dice è in passato tra l'altro Giacomo Modica che è stato in Abruzzo anche tecnico per diverse stagioni del Celano ha lavorato anche con Zeman e oggi il Summit in società pronte 10 sessioni dunque sono davvero tanti i giocatori che potrebbero e dovrebbero lasciare Pescara tra l'altro come leggiamo anche qui dal quotidiano il messaggero in partenza Cepigliacelli che dovrebbe andare alla Provercelli saluterà anche Mazzotta in scadenza di contratto Mazzotta andrà al Brescia richiesto in maniera prioritaria dall'ex tecnico del Pescara ma anche suo ex allenatore Pasquale Marino il sogno per il Pescara per la difesa è Alessandro Bastoni che l'Inter potrebbe richiamare dall'Atalanta e poi come visto anche prima al Pescara interessa l'attaccante Vido dal calcio almeno calcio di serie B alla palla canestro il trofeo Lido delle Rose all'Abruzzo si parla di basket con la squadra abruzzese che si è giudicato il trofeo delle Rose disputato l'altra sera si disputa questa manifestazione a Roseto del più antico torneo d'Europa e forse del mondo nato pensate nel 1945 è stata un'edizione giovanile come già accaduto nel 1993 e nel 2013 che ha visto impegnate le selezioni regionali 2004 di Abruzzo Lazio ed Umbria andiamo a vedere l'altra pagina di sport del quotidiano il messaggero in apertura in alto si parla di pallavolo di volley la SIECO con troppe assenze sconfitta anche nell'ultimo turno di campionato e poi Benz entro il 15 di gennaio si decide sull'eventuale taglio anche Ottaviani e City out a Tuscania il KO alla fine era inevitabile dunque è arrivata questa sconfitta con il Tuscania per la SIECO Ortona che dunque nei prossimi giorni nelle prossime ore dovrà decidere sull'eventuale conferma o meno del giocatore Benz e siamo al calcio e poi ai motori partiamo dal calcio dal Teramo Teramo in linea con i programmi il bilancio della formazione Bianco-Rossa e bilancio soprattutto del direttore sportivo Giorgio Repetto spero di arrivare fino alla fine non si sa mai Asta Maniacale Felice Divento la De Grazia e Sales pretendo da Tulli ha detto il direttore sportivo della formazione Bianco-Rossa in questa intervista rilasciata al messaggero e siamo all'Aquila per fortuna che c'è Battistini le vacanze sono finite l'Aquila torna al lavoro ci sono ancora diversi problemi da risolvere ma si pensa anche al calcio giocato a proposito di calcio giocato fermi i campionati di Serie B e Lega Pro domenica prossima tornerà il campionato di Serie D collegare valide per la prima giornata di ritorno e siamo ai motori parla il ci sono in questa intervista si parla dei due piloti abruzzesi il motociclista Bastese Iannone e poi Cardarelli e anche il Giuliese Tacquini un 2018 super almeno queste le previsioni e l'augurio per i nostri portacolori i piloti abruzzesi saranno protagonisti sin da metà gennaio e si parla anche di atletica in basso perché il tecnico Marcello Vicere è il top trainer dell'anno dell'atletica italiana lasciamo le pagine dello sport regionale abbiamo visto gli articoli gli argomenti trattati sul centro sul messaggero sul quotidiano la città e ci avviamo alla conclusione chiudiamo con le prime pagine dei tre quotidiani nazionali sportivi oggi in edicola partiamo dalla gazzetta dello sport Gigi chiama Gigio non è un gioco di parole ma è l'intervista esclusiva a Gianluigi Buffon che vede come suo erede il portiere del Milan Donnarumma non vivo la situazione ma una cosa è certa se viene alla Juve non sbaglia mai dice Buffon in questa intervista lascio raddoppio non so ne parlerò con Agnelli però se vinco la Champions continuo con il mondiale per club la signora Almax questa maglia è usurante ma ti rende vincente Allegri gli invidio coraggio e follia e poi più in basso ci sono ancora delle dichiarazioni che riguardano la Juventus pochettino sono piemontese ma no farò sconti col Tottenham si pensa alle gare di Coppa e poi quarti di Coppa Italia Napoli Sarri vuole sbloccare Mertens Gasperini Atalanta tutto è possibile questa sera alle 20.45 ci sarà la sfida fra i Campani e la formazione Lombarda e poi Buffera su Nainggolan siamo alla Roma il giocatore della formazione giallorossa tra come leggiamo in questo articolo tra bevute e bestemmie Capodanno sfrenato in diretta sui social poi chiede scusa il giocatore della Roma passiamo al corriere dello sport dello Feu Ramirez per la nuova Inter il club nero-azzurro prova a rilanciare per la Champions Spalletti deve scegliere un rinforzo il baby Bastoni arriverà adesso e dunque abbiamo visto prima dal messaggero che Bastoni interesserebbe il Pescara ma se Spalletti chiederà di avere a disposizione il baby difficilmente Bastoni si trasferirà a Pescara e poi colpo su colpo il duello si accende si parla di mercato Napoli su Verdi la Juve vuole subito Emre Can caccia grossa per lo scudetto e poi altre notizie che riguardano il Milan e la Lazio Dembélé da Gattuso l'ultima idea dei rossoneri il centrocampista del Tottenham cerca più spazio si può chiudere e poi Lazio c'è Caceres dopo la Befana l'accordo è triennale il gioli difensivo aiuterà Inzaghi sabato giocherà l'ultima partita con il Verona Caceres per poi trasferirsi alla Lazio e poi Coppa Italia contro l'Atalanta 20 e 45 tanti i big con l'obiettivo semifinali come abbiamo visto si giocherà Atalanta Napoli Napoli-Atalanta pardon di Coppa Italia l'ultimo giornale sportivo nazionale che prendiamo in esame tutto sport Toro il derby di Coppa per dire tutta la verità perché domani sera allo stadium si giocherà il derby di Coppa Italia tra Juventus e Torino una gara tutta da seguire poi Juve Yes You Can pronta la mail a Liverpool per formalizzare la trattativa con il tedesco che sarà libero a giugno da domani i bianconeri possono siglare il preaccordo in vista della prossima stagione ma ci sono speranze anche per gennaio poi anche su tutto sport troviamo questo articolo che riguarda il mercato l'Inter in particolare perché De Lofeu ex tra l'altro giocatore del Milan per stimolare Perisic è giocatore del Barcellona che potrebbe approdare a Milano ma sulla sponda nera-azzurra dopo aver militato lo scorso anno con il Milan in basso ancora qualche titolo Roma Nengolan Alcol Feste Bestemmi e poi le scuse Pep sta per Pep Guardiola frenata e polemiche Murigno di nuovo secondo Liverpool Grana Coutinho e con la prima pagina di tutto sport noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi primo della settimana ma anche dell'anno di mattino 6 mattino 6 che tornerà domani come sempre alle 8 io ringrazio Silvia Gentile in regia ringrazio voi per averci seguito vi rinnovo ancora una volta gli auguri per un sereno 2018 vi do appuntamento alla prossima finestra informativa della nostra rete come sempre alle 14 per la prima edizione del Tg6 grazie e buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti.